Ciao a tutti. Bentornati su Tenosciare. Se state cercando di trasferire WhatsApp da Android a iPhone senza perdere i dati o resettare il dispositivo, siete nel posto giusto. Ecco un video completa su come trasferire i dati di WhatsApp con iCareFone Transfer. Andiamo! ICareFone può trasferire senza problemi oltre migliaia di messaggi WhatsApp tra diversi dispositivi. Una volta installato, potete seguire questi passaggi. Iniziate collegandosi all'Android che l'iPhone al computer con un cavo USB. Quando entrambi i dispositivi sono collegati, aprite EcoreFone Transfer e selezionate WhatsApp come app da trasferire. Assicuratevi che la direzione del trasferimento sia impostata su Android a iPhone. In caso contrario, è possibile invertirla facilmente con un solo clic. A questo punto, cliccate su Trasferimento per iniziare. Se richiesto, dovrete abilitare il debug USB su Android. Se non viene visualizzato sul telefono, è possibile seguire la guida su schermo per aprire il debug USB su Android. Questo permette al dispositivo di comunicare con il computer per operazioni avanzate. Tutto ciò che dovete fare è aprire la modalità sviluppatore per abilitare il debug USB. Successivamente, dovrete creare un backup criptografato a 64 cifre sul vostro dispositivo Android. Aprite WhatsApp su Android. Andate su Impostazioni, Chat, Backup delle chat e attivate il backup criptografato, end to end. Selezionate l'opzione di 64 cifre. Assicuratevi di salvare questo codice facendo uno screenshot o una foto, perché vi servirà a breve. Poi tornate indietro per creare un backup. Ora, tornate a iCareFone Transfer sul computer. Quando viene richiesto, inserire il codice di 64 cifre e fare clic su Verifica. Dopodiché, avrete la possibilità di scegliere i tipi di dati da trasferire. Selezionate ciò che vi serve. Premete Continua e accedete al vostro account sull'iPhone. Una volta effettuato l'accesso, cliccate su Accedi su iCareFone. Quindi i dati di WhatsApp verranno trasferiti, l'iPhone si riavvierà e nulla andrà perso sul vostro iPhone. Ora potete vedere che tutte le vostre chat, i media e persino gli adesivi sono stati perfettamente migrati. È un processo incredibilmente semplice e, soprattutto, non c'è alcun rischio di perdita di dati. Grazie per guardare. Ci vediamo al prossimo.